Buondi! Ecco a voi il Paul Newman del Movimento 5 Stelle. Come chi è? È Nicola Cunzio, che si è candidato ed è stato eletto deputato con lo straordinario curriculum di attore. Non ha vinto qualche premio Nobel, l'ha fatta comparsi in qualche film. Ma cacchio cacchio, al grido di onestà onestà, con questa faccia simile a Toninelli, è diventato deputato. E una volta entrato a Montecitorio ha preteso la poltrona di membro della Commissione di Vigilanza RAI per combattere il conflitto di interesse di Silvio Berlusconi. Bravo! Poi, da deputato e da membro della Commissione di Vigilanza RAI, ha avuto una particina, una comparsa, in un film prodotto dalla RAI. Conflitto di interesse? No, conflitto e scimità. Buon caffè a tutti!